Vittorio Engler, Lucio Pinzoni, Tommaso Finatri, Beast Technologies, significa tirare fuori nelle persone che vogliono allenarsi la parte più bestiale che c'è in loro. Tecnologia per migliorare l'allenamento sportivo, attraverso della sensoristica ad alta tecnologia applicata nell'ambiente fitness. Perché abbiamo trovato tutto il supporto che ci serviva per partire con questa nuova avventura. Motivate, visualize, improve, optimize! Grazie per la visione!